per l'Etruria divisione maschi sbaglia in avvio Fast and Furious dall'interno prova Frenkie LJ a scavalcare Fandango Lewis a largo parte bene anche Fell of Wise primi metri di gara con Fell of Wise che dall'esterno prova ad andare sull'iniziale battistrada Frenkie LJ due in qualche modo da affrontare la curva veloce di destra c'è un 15 per i primi 220 metri di corsa in avanti Frenkie LJ prova a tenere sulla pressione esterna di Fell of Wise che intensifica con un paletto decisamente veloce Fell of Wise paletto in 14 e spicci sopravanza il rivale ad intervallo si è sistemato Fandango Lewis ecco Falco Killer Gar il grande favorito che dopo 600 metri in 44 tende ad avvicinare il nuovo battistrada Fell of Wise AS sempre secondo in corda Frenkie LJ sempre primo di fuori Falco Killer Gar 820 in 59 e 4 passaggio di fronte alle tribune chilometro la schiena dell'attaccante è presa da Fandango B quando i cavalli hanno transitato il primo giro numero 7 futuro d'amore squalificato iniziale in 1 14 e 6 sbagliato futuro d'amore nel frattempo ancora un paletto in 14 e 2 per la testa prova a scappar via Fell of Wise ma Falco Killer Gar è lì e all'attacco della dritta di fronte temporeggio nell'attacco numero 2 Fandango Lewis qualificato di corsa adesso si accelera che vanno via in uno ancora un paletto da 1 e 15 mille e due in 1 28 e due passato con grande parziale Falco Killer Gar l'attacco della piegata finale ha preso chiaro margine ai rivali sull'ultima curva Falco Killer Gar scappa via con netto vantaggio il miglio in 1 57 1 e all'ingresso della retta Falco Killer Gar si presenta in splendido isolamento Falco Killer Gar viene a dominare l'Etruria maschi esibizione di potenza e di classe assoluta per Falco Killer Gar che viene a rifinire il tutto 2.000